Unica abruzzese impegnata l'Abba Pineto, impavida Ortona riposo per turno, domani sera alle 20 recupererà Castellana Grotte, mentre il Pineto altro recupero se la vedrà col Belluno alle 20.30 al Pala Santa Maria. Giornata no dal sestetto di Rovinelli, di nuovo sconfitto, due trasferte comunque pesanti e troppo ravvicinate, Grottazzolina e Prata un sol punto, vertice solitario provvisorio e momento decisamente negativo. Ancora una gara corrente alternata con troppi errori inspiegabili, talora persino elementari, ricezione spesso in affanno, molti gli è subiti, battute regalate ai friulani nei momenti clou, rimonte esagerate, mettici pure alcuni soliti pasticci arbitrali ma con un peso relativo, rare le fasi positive. Al di là dell'unico set vinto, squadra che non brilla come un mese fa, ma va pure rimarcata la pazzesca rincorsa di un Prata al suo nono successo consecutivo, non un caso, e ora un sol punto dagli abruzzesi. Baldazzi il più prolifico, 17 punti dei locali, link per il Pineto, 20 punti e 44% con 3, ma anche 7, tante, battute sbagliate. In difficoltà la difesa, non efficiente l'attacco come da costume, soprattutto però la differenza ha un nome preciso, muri, udite, 4 vincenti labba. Ben 18, avete capito bene, 18 il Prata, superfluo ogni commento. E giovedì 20, non mercoledì 19, sempre alle 21 in Pallavolè, si parlerà anche del recupero di domani. Ripetiamo, ore 20 e 30 in casa contro il Belluno, dovrebbe essere tutta un'altra storia. Grazie. 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 Grazie.